Un saluto come state ben ritrovati, mi raccomando commentate numerosi qui sotto con il vostro punto di vista, lasciate un like e iscrivetevi, vorrei fare un focus con voi di un paio di minuti su un giocatore per quanto mi riguarda pazzesco che si chiama Rafael Leao, ieri partita straordinaria contro il Lecce, insomma giocate straordinarie, ha iniziato a segnare pure di testa con un'elevazione incredibile, il gol in campo aperto chiuso con il sinistro, insomma oggi Rafael Leao è il top player del Milan e sembra entrato in condizioni proprio nel momento giusto della stagione, quando ci si gioca nel caso del Milan semifinale di Champions e piazzamento nei primi quattro posti, un po' come lo scorso anno di questi tempi il Milan grazie anche e soprattutto a Rafael Leao portava avanti il discorso scudetto realizzandolo, mettendo poi la spunta verde nel finale di stagione più o meno tra un mesetto. Leao ha 29 partite quest'anno in campionato con diverse ancora partite da giocare, 7, ne mancano 7, ha già fatto 12 gol superando il record personale della scorsa stagione, una reta ogni 170 minuti ed è una media pazzesca se di mestiere non fai il numero 9 ma l'esterno. Sono numeri da top player ai quali dobbiamo aggiungere anche 7 assist in Serie A, 5 assist in Champions e spesso sono assist che sono quasi come dei gol come quello con Giroud e una rete appunto in Champions League. È un giocatore formidabile, top player incredibile al quale il Milan deve rinnovare il contratto, deve fare uno sforzo importante perché Leao merita l'eccezione, merita di essere pagato più degli altri, lo riconoscono anche i compagni stessi. Leao l'ha detto dopo la partita, l'aveva detto Tonali, Giroud stesso, giocatore che sembra avere una marcia in più rispetto a tutti e che se è in giornata trova la giocata che spacca la partita con una facilità disarmante. Giocatore pazzesco che sta raggiungendo livelli davvero altissimi, se il Milan riesce a rinnovare il contratto fa cosa buona e giusta da un punto di vista tecnico ma anche economico perché poi il valore aumenta quindi ne vale anche la pena. Che ne pensate? Commentate qui sotto numerosi, iscrivetevi qui se non avete ancora fatto e lasciate un bel like. A presto per altri aggiornamenti.